SIGLA Dalla zona carte E' stato reso disponibile Il mega sgherro Mentre tra dieci giorni Il drago infernale sarà la prossima carta E tra breve altre due Di cui non sappiamo la conoscenza Ma niente Come potete vedere E' un episodio di tutti i bauli Quindi richiediamo le nostre classiche cose Doniamo al clan Per cui gli serve Se volete partecipare al clan L'UMA Lo stemma lo vedete Il tag del clan è qua Hashtag 9oul99 E niente iniziamo Con i bauli o meglio Ok molto bene Perfetto Gigante royal Eeeh Mi sento i bauli d'argento Benissimo un domatore Altro bauli d'argento Spera infocata Gigante royal Ok ci siamo Ok ci siamo Oh Altro bauli d'argento Oh cavaliere della merita Che non ne trovo uno Vabbè Gli spiriti del fuoco Ormai ti ritirano Baule della corona Signori Gigante royal Spera infatti 3 moschettieri Non male Comunque vai col bauli gigante Ok Ok La montagna di sale Perfetto Spera infatti Altro 3 moschettieri E 208 giganti royal Niente io speravo Nella leggendaria Ma nulla da fare Ah giusto Sono stati aggiunti Nuovi bauli Adesso c'è il baule Epico Se non sbaglio Vedere se riesco a trovarlo No Forse è una cosa Che non avevo ancora Conociato Devono uscire nuovi bauli Io so Da quel che hanno detto Fa vedere No Non ci interessa Prima di salutare Volevo un attimo Controllare Se era vera Quella Voce In arrivo Non ci sono messaggi Le angela Ecco Sfide 12 miglioramenti 4 9 Novi bauli Baule leggendario E il baule epico Che contiene solo carte epiche Vedete Proprio qui Quindi Era vero Perfetto Per il momento è tutto Il Diciamo Episodio Tutti i bauli Finisce qui Appena Riuscirò a ottenerne Degli altri Particolari Farò lo spacchettamento Per il momento è tutto Ciao da Luma Se il video ti è piaciuto Iscriviti al canale Non aspettare Perfetto 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 Perfetto